Noi ospitiamo di nuovo una giovane imprenditrice, la signora Muta Imago, che è famosa per il suo fiorente commercio, pensate, di silenzio in scatola, vende silenzio in scatola. Cara Muta Imago, lei se l'aspettava tutto questo successone? Beh, certo, perché in questo momento gli italiani hanno proprio bisogno di silenzio. Se avete visto il programma dei giletti ve ne rendete conto da Sì, è vero, è vero. Io proprio per questo ho deciso di rendere silenzio in scatola e sono andata anche a procurarmene in tutto il mondo. Oggi ad esempio ho portato con me anche una lattina contenente il silenzio di importazione. Ecco, di importazione, bene, bene, bene. L'ho raccolta a Washington sabato scorso. Ah, fresco, fresco. Bello fresco, sì. È un silenzio, il silenzio di Melania Trump. Sì. Mentre il marito si incazza con la Pennsylvania. Sì, l'ho fatto, è vero. E sottofondo si sente Rudolf Giuliani. Sì. Che cerca di salvare la statuetta di Abraham Lincoln. Sì. Insomma, dalla rabbia del presidente. Perché lì era arrabbiato. Ah, c'era un po' donna. È andato un po' fuori di testa. Eh, lo capisco. Sì, ecco. Allora, attenzione. Allora, ora apro la lattina. Sentiamo. Sentiamo. Avete sentito? Ma guarda, io ho la pelle d'oca. È vero. Perché proprio si sentiva la statuetta che traballava. Sì, sembrava di stare lì. Incredibile. È vero. Però non è necessario andare all'estero per trovare questi silenzi di qualità. Veramente? Ah no? No, no. Sentite per esempio che sapore straordinario ha questo silenzio scatolato che sto per farvi sentire. Sì. Allora, questo si tratta del silenzio di Briatore a Portocervo quando viene a sapere che l'ex moglie Gregoracci frequentano un altro uomo. Ecco, ecco. Mentre in sottofondo nelle cucine del billionaire stanno preparando dei Malloredus, proprio di quelli fatti proprio bene. Il contesto quindi è questo, diciamo. Allora, attenzione che io apro la lattina. Ecco. Eh? 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 Ma com'è? Ma com'è? Ma com'è? Ma è bellissimo. È una cosa veramente. Io ho sentito proprio la freschezza dei Malloredus. Che fumavano le bollicine di champagne. Bravo, bravo, bravo. Ma se uno impara a gustarsi il silenzio sta proprio a cavallo. Sì. È proprio a cavallo. Allora, io tra l'altro alla qualità dei miei silenzi ci tengo moltissimo. Ma si sente questo? Proprio perché non amo appiopare delle fregature al cliente. Giusto. Giusto. E invece è importante perché uno il cliente se lo deve tenere. È ovvio. È ovvio. Allora, io adesso vi voglio lasciare con una chicca. Sì. Che è un silenzio proprio da intenditori. Sì. Questo è il silenzio di Alfonso Signorini. Sì. Io ve lo dico. Sì. Alfonso Signorini. Alfonso Signorini. Mentre Bettarini molla il grande fratello Vip. Sì. Signorini come ci resta? Sentiamo. Eh? 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 Mamma mia. A me è venuta la pelle d'oca. Allora, se vi dovesse interessare all'articolo. Sì. Ci interessa. Quanto costano? I primi due silenzi li metto in vendita a 15 euro. Sì. E l'ultimo costa 2.500. 2.500? Ma perché così tanto? Eh? Perché? Beh, perché per ottenere un silenzio dei signorini ci ho dovuto fare due anni di appostamenti. Ah beh, ha ragione. In effetti non è da tutti. No. No. Grazie. Questo è proprio per Radio 2.